Inventa il nuovo look dei tuoi capiti, Styling Zombie Boa, The Trendy Appeal Italia 1 Chi darà voce al loro silenzio? Nessuno ama gli elettrodomestici e l'elettronica come chi lavora da Euronics. Euronics, i grandi negozi d'Europa. Ah, finalmente pensiamo un po' a te. Però, che gambe toniche. Sì, quello grigio. Così si vede che sei in forma. Che fai, Effi? Ehi, mi vedi? Da non evita snella, ha meno dello 0,002% di sodio. Giorno dopo giorno, con l'acqua che elimina l'acqua. Ti senti più leggera e più in forma. Acqua da non evita snella. Più che snella. Vita snella. Da oggi con TeamPay4Me. Digiti il 4888 prima del numero da chiamare e addebiti la telefonata ai numeri Team e Telecom Italia. Borotalco! Altolà il sudore! Deodorante Borotalco con microtalco. Assarbe il sudore! Deodorante Borotalco! Altolà il sudore! Azione! Filadelfia Light. Buona. Col 40% di ciccia in me. Stop! Grazie Marina! Filadelfia Light. Un piacere senza confronti. Qual è stata la mossa vincente di Schwarzkopf contro Saddam nella Guerra del Golfo? Come ha vinto Montgomery contro Rommel a Del Alameine? E Zhukov contro Von Paulus a Stalingrado? Feisov, comandanti a confronto nelle grandi battaglie del XX secolo. documenti e filmati originali in una collezione unica e avvincente. Feisov, questa settimana in edicola la prima uscita con il fascicolo e la videocassetta allo sbarco in Normandia a soli 3 euro. De Agostini. Anche in casa esistono mezzi di trasporto. Meglio usarli. Ottimo per solidità, estetica, capienza e accessori, Newton è l'unico che vi fa da tavola o che vi accompagna a tavola. Newton, il carrello intelligente di Foppa Pedretti. E' una novità per la tua alimentazione. E' l'olio di riso scotti. Delicato. Leggero. Dottor Scotti. Contiene il gamma orizzanolo? Olio di riso scotti. L'olio del benessere. Dopo mangiato lavarsi i denti è importante. Ma quando non c'è il tuo spazzolino, c'è Deigan Protex a triplazione. L'oxiditolo neutralizza gli acidi, il fluoro protegge i denti, il calcio li rinforza. Quando non c'è lo spazzolino, c'è Deigan Protex. Walter. Sì? Partiamo per un weekend. Dove andiamo? Finistop. Venezia. Venezia? E' un po' fuori mano. Avrei un motel vita tangenziale che è la fine del mondo. Dai, Walter. Aspetta, com'era? 89, 24, 24. Pronto, pagina gialla? Sono chiara, mi dica. Cercavo un albergo a Venezia. Certo, quante stelle? Quante stelle? E' uguale. L'importante è che si vede la tangenziale. Io senza tangenziale non... Cerchi l'albergo giusto nel posto giusto? 89, 24, 24. Fammelo Carmela, fammelo, Carmela, fammelo. Che ti faceva Carmela? Che mi faceva Carmela? Che cosa le faceva? Il caffè... Te lo sei ricordato, eh? Kimbo. E chi se lo scorda? Ciao, mio scopo! Un maxi... Bon! Un maxi... 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 Sei pronto per goderti una bella vacanza? Allora sei pronto a leggere Men's Heart di settembre e a indossare l'esclusivo cappellino firmato Men's Heart. Un maxi... 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 Face Off, comandati a confronto nelle grandi battaglie del ventesimo secolo Documenti e filmati originali in una collezione unica e a vincente Questa settimana in edicola la prima uscita con il fascicolo e la videocassetta allo sbarco in Normandia a soli 3 euro Quest'estate con Summercard parli gratis fino a 250 euro con i clienti Vodafone Omnitel e i numeri di rete fissa Noi parliamo gratis And you? Vodafone Omnitel Massaggia i tuoi sensi mentre fai la doccia Nuovo Duccio Schiuma Palmolive Aromatherapy Massaggia i tuoi sensi con oli essenziali di paciuli, lavanda e lang-lang Nuovo Duccio Schiuma Palmolive Aromatherapy Sentilo sulla tua pelle e nella tua mente Nuovo Duccio Schiuma Palmolive Aromatherapy Massaggia i tuoi sensi Azione! Tira del chiala, è leggero e buonissimo Marina, azione! Filadelfia Light, un piacere senza confronti Ti pari a uno! Tira del chiala, è leggero e buonissimo Tira del chiala, è leggero e buonissimo Tira del chiala, è leggero e buonissimo